Io sono nato rocchettaro, cantavo in rock con Celentano, col clan Celentano, con i ribelli, e quindi cantavo in rock and roll. Poi dopo incontrai i Galdieri, qui al Mercadante, che mi scritturò per il suo musicolo con Edoardo De Filippo, nacque a settembre, e mi disse figlio, la vostra strada è la grande canzone d'arte napoletana, voi siete unico. E così ho portato Napoli in tutto il mondo. Da oggi Bruno Venturini, uno dei massimi interpreti della canzone napoletana, è cittadino onorario di Napoli. Nato a Pagani, in provincia di Salerno, il maestro interpreta da oltre mezzo secolo i grandi classici della canzone partenopea con uno stile personale e riconoscibile. Venturini ha venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. Il maestro Venturini ha onorato veramente Napoli nel mondo. è un grande interprete della canzone napoletana veramente in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Sud America, all'Europa, alla Russia, alla Cina. Non c'è angolo del mondo dove non si è conosciuto il maestro Venturini e dove attraverso anche le sue interpretazioni non è arrivata la grande canzone classica napoletana. Quindi per noi è una giornata di festa e un tributo dovuto. La cerimonia di conferimento della cittadinanza che si è tenuta questa mattina a Palazzo San Giacomo col sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alla cultura Nino Daniele testimonia il profondo e reciproco legame di stima e di affetto tra la città e l'artista. Oggi è una giornata importante per la musica napoletana nel mondo perché viene riconosciuta la cittadinanza onoraria a un grande interprete contemporaneo della musica napoletana come Bruno Venturini. Quindi questo è un fatto importante perché lui ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo cantando e parlando di Napoli desiderava diventare cittadino onorario perché lui è di Pagani pur avendo suonato e cantato la prima volta a Napoli a Porto Capuana nel 1959 quindi noi siamo felici di questo perché Napoli ha una potenza culturale come nessun'altra città al mondo. Per celebrare questa occasione mercoledì 13 novembre Bruno Venturini canterà al teatro Politeama di Napoli in uno spettacolo ad ingresso gratuito. Napoletani bisogna esserlo innanzitutto nel cuore e lui certamente è stato da questo punto di vista un grande interprete di Napoli e si può cantare la canzone classica napoletana secondo me solo amando veramente Napoli. Venite al teatro perché vi aspetto mercoledì sera dopo domani alle 21 il teatro è ingresso libero, fine esaurimento posti, sono 1500 posti, venite che vi aspetto.